Sì, abbiamo fatto una gran partita secondo me. Il nostro rammarico è di aver concesso su situazioni speciali di mettere sul primo gol di pari inattiva dove sapevamo di non poter concedere niente a una squadra così forte. Il futuro è Cagliari fino a giugno, bisogna finire il campionato alla grande come stiamo facendo e poi ci penseremo. Sono contento dell'interesse, del pensiero, però adesso noi dobbiamo pensare al nostro campionato.